E' molto frequente, tra le domande che ci arrivano e che ci fanno molto piacere, sentirci chiedere consigli su quale tipo di immagine iconografica scegliere in mezzo a questa collezione che Arte Investimenti ha preso selezionando pezzo dopo pezzo. E ancora più belle sono le domande che ci state facendo che riguardano proprio la riconoscibilità di certe icone. Io vi faccio vedere, partendo stavolta da una cosa molto meno nobile, se vogliamo, di quello che diciamo, cioè dal suo prezzo, costa 3.700 euro, ve lo dico subito, però quando io vi do un prezzo, quando vi do un annuncio che riguarda la parte economica, sulla quale gli occhi sono molto accorti come sempre qui a Arte Investimento, bilanciatela con quello che riuscite a comprare, con la stessa cifra di qualsiasi altra cosa che abbia a che fare con l'antiquariato. Fate questo rapporto e poi pesate se veramente sia o non sia, come diciamo, vero che le icone sono molto più di una semplice opera d'arte. Di che cosa vi parlo? Di un'immagine che avete richiesto e che è riconoscibilissima, come abbiamo già detto in altri casi, basta darle un'occhiata un pochino accorta, è il Cristo Pantocratore. Chi ha avuto a che fare con la lingua greca sa che questo è un termine che dovrebbe significare colui che comanda su tutto, ma ci sono delle traduzioni che sono ancora più approfondite, colui che sostiene in sé l'essere, ma al di là di questi dettagli, sui quali io cerco sempre di non fermarmi perché ritengo che le discussioni che riguardano le piccole virgole sono soltanto negative e non fanno bene a nessuno di noi. Io voglio farvi riconoscere, ma credo che sia riconoscibile già a prima vista, uno degli elementi che abbiamo trattato negli altri appuntamenti che abbiamo avuto. Vedete come è vestito il Cristo? Ha questo panneggio rosso sulla pelle ed è ricoperto da un blu. I colori nelle icone hanno una grande importanza. Il rosso è il massimo colore della passione spirituale, il blu della profondità, ma il blu è materiale, è umano, il rosso è un colore della santità. Diversamente da sua madre vestita di blu e ricoperta di rosso, lui è vestito di rosso e ricoperto di blu. Lui è spiritualità che diventa umanità, la madre è una donna tra le donne negli uomini che diventa santità. Queste differenze, queste accortezze nelle icone esistono. La scrittura ci aiuta molto, la scrittura delle icone per tale intendo quei caratteri che voi vedete e che adesso stiamo vedendo in dettaglio. Intanto l'abbreviazione del nome Gesù Cristo, eccola qui, questa e questa parte. Poi ovviamente una scritta con dei caratteri che servono nelle icone a capire se siamo in un'epoca o in un'altra. Qui siamo nell'ottocento più pieno, la scrittura viene quasi agghindata con dei chirigori che la rendono ancora più digeribile, più importante, ma il bello è qui dentro. Il Cristo sembra seduto con un atteggiamento di assoluta serenità e ha nella sua mano sinistra un libro aperto. Quel libro aperto ha delle sacre scritture e molti definiscono in varia maniera quello che c'è scritto lì. Certo è che si tratta del passo del Vangelo di Matteo in cui si parla di come saremo premiati in base al nostro amore verso il prossimo. Quindi il contenuto dell'immagine non è soltanto l'immagine, è anche quello che c'è scritto e che accompagna l'immagine. Vedete poi che la mano destra è chiusa in un gesto, se voi frequentate le chiese di rito cristiano orientale troverete che il modo di segnarsi, di fare la croce è diverso dal nostro. Loro tengono unite le tre dita come rappresentare la Trinità. Però se guardate questa immagine troverete anche, pian piano lo spiegheremo volta per volta, l'indice e il medio lasciate in alto a raffigurare una doppia identità. Sembra che stia segnando un due. Sono umano ma sono anche divino. Vedete come le icone hanno questa caratteristica di indagabilità e anche di limpidezza? Perfette. Se ci si mette, io ho portato qui alcuni degli appunti sui quali spesso mi concentro. Addirittura si parla di quando sia stato rappresentato per la prima volta. C'è qualcuno che dice che su alcune immagini del Cristo pantocratore le scritte sono diverse da queste. Il mio regno non è di questo mondo e questo è il Vangelo di Giovanni. Oppure nel mondo più recente, più vicino a noi, l'influsso del tipo italo-cretese, permette all'immagine di avere delle trasformazioni. Troverete delle immagini del Cristo con un volto differente, con un naso più allungato, con una chioma e con dei riccioli molto più abbondanti. Questo dipende anche dalla committenza. Non dimentichiamo che le icone partono da un fatto fondamentale. Il committente chiede all'iconografo di realizzare un'icona per la propria famiglia. Lo faceva. E lo faceva chiedendo quello che gli poteva aggradare di più, ma alla condizione che abbiamo già specificato. Le icone devono rispondere ad una regola. Da quella regola non si esce. Io trovo che se pensiamo ad un oggetto del XIX secolo tenuto in questo stato di conservazione, 3.700 euro siano una cifra assolutamente abbordabile. Non so quanto manca alla chiusura di questa piccola paginetta. Manca o ne abbiamo? Ne abbiamo ancora. Allora facciamo una cosa. Possiamo mandare ora, se possibile, lo chiedo dalla regia, il riassunto con la schermata. Perché? Che succede? Che molte volte voi rivedrete le immagini di questo Cristo Pantocratore anche in altre salse, più grande, più piccola. Cercate di non dimenticare questa. Abbiamo selezionato la migliore o tra le migliori, quella più limpida, quella più facile da interpretare. Quella che vi porta anche a individuare un soggetto dal quale è difficile sfuggire. Questa non è l'immagine di una madre di Dio da interpretare se sia o d'Egitria o del segno o della tenerezza. Questo è il Cristo Pantocratore, è un'immagine assolutamente inconfondibile. Ce l'abbiamo, regia? Mi sposto. Eccola lì. È il vostro promemoria. Vi basterà chiamare il nostro centralino e fare riferimento a questa immagine del XIX secolo con queste misure. E a questo proposito vi ricordo che queste sono le misure più tipiche, più tradizionali, più frequentate, più quotidiane per le icone. Sarete accontentati con un'opera che significa davvero tantissimo. Vorrei aggiungere molte altre cose, ma credo che tra le più importanti ci siano ancora qualche nota che riguarda, non dico il rischio, ma l'opportunità che si presenterà di fronte a noi quando parleremo di icone con Larizza o con Loclad, secondo dei termini, cioè con quella copertura d'argento. Badate bene, più si va verso l'Ottocento inoltrato, più si va verso la fine del XIX secolo, più troverete delle immagini di un Cristo quasi biondo, quasi occidentale, quasi rispondente a quelle immagini che nella pittura sacra vediamo nelle nostre chiese o in altri luoghi in cui sono contenute opere di arte religiosa, quando ci concentriamo sulla qualità di immagini che sembrano dare l'idea di una umanità, ma molto, fin troppo vicino a noi. Vi do ancora una volta l'immagine dettagliata di questa bellezza, salutandovi e ricordandovi che arte e investimenti risponde alle vostre chiamate, al numero che conoscete bene, risponde alle vostre mail, alle vostre richieste, sul fatto di icone e mi raccomando, le domande che avete fatto fin qua, continuate a farle, perché questi incontri sicuramente serviranno a noi per divulgare e diffondere di più il lavoro che stiamo facendo sulla colazione di icone russe, ma servono a voi per scegliere quella che vi piace di più e non è poco. Grazie mille.